Ciao a tutti ragazzi, venuti da... E da... Ciao a tutti, ciao a tutti, merito... Mi sembra che sia buona intettativa idea Oh no, un altro Un altro? Un altro ancora? Ma perché c'è un altro? Un altro robot Va bene, ma senza mai combattere Dobbiamo trovare un altro sistema Se dobbiamo trovare per seguire il Mr. Prost Dobbiamo cercare di trovare un altro sigaretta Per fermarlo, quel robot senza mai combattere Vabbè, d'accordo, sto scherzando ragazzi Ma solo che in realtà è che ti sto vedendo a voglia Cioè, non combattiamo questo robot Cerchiamo di trovare un'alettica di prima di seguire quello di Broly Aspetta, c'è ancora un po' Un po' Un po' Un po' roba... Ecco Ora ci vedo Un po' Cerchiamo di trovare il modo per salire sotto il carro E' qua Guarda se intorno a quella casa c'è una via d'ingretti Solo lassù i fuochi Quella mano gica più che sembra che li tenga sollevati Quella mano deve trarre energia da qualche parte Un po' 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 Un po'